A Salerno continuano gli interventi dell'amministrazione comunale per evitare che si verifichino altri incidenti stradali dopo i due mortali dall'inizio dell'anno. Prosegue la messa in sicurezza delle strade più pericolose con precedenza a lungomare. La nostra idea è quella di evitare che si creino alte velocità perché non c'è nessuna interruzione di traffico nel lungomare scorrevole a senso unico. Per fare questo faremo funzionare i semafori a colori oppure anche su domanda, ma soprattutto faremo funzionare i semafori in automatico di modo che sarà necessario che si fermi con il rosso. Se dobbiamo scegliere tra un po' più di traffico e un po' più di sicurezza, la nostra scelta va alla sicurezza perché in questa città abbiamo, come del resto anche in tutta Italia, abbiamo un aumento vertiginoso dei danni a persone e cose, dei feriti e dei morti per la circolazione stradale che è diventato un vero flagello. Supporto della Polizia di Stato per i controlli in strada, mentre va avanti il lavoro dei caschi bianchi che chiedono la collaborazione dei cittadini. Il pedone obbligatoriamente deve transitare, deve passare da una strada all'altra sugli attraversamenti pedonali. Se non lo fa è sanzionabile, a meno che gli altri attraversamenti pedonali esistano a più di 100 metri. Solo in quel caso là è autorizzato a passare non sulle strisce. Grazie.